3.05 di Trenitalia delle ore 12.57 per Farsano è in partenza dal binario 4, invece che dal binario 3, per lei in tutte le stazioni. 3.05 di Trenitalia delle ore 13.07 per Farsano è in partenza dal binario 4, invece che dal binario 4, invece che dal binario 3, per lei in tutte le stazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.